C'è un nuovo presidio Slow Food in Sicilia, si tratta del carciofo di Niscemi. Con questo l'isola si conferma la regione italiana con più progetti di tutela della biodiversità targati Slow Food. Sono 51. Storicamente Niscemi è la capitale del carciofo. Qui sono stati tantissimi produttori che si sono dedicati in passato a questa coltivazione, come racconta Valentina Maria Vacirca, fiduciaria della condotta Slow Food Niscemi, terra del Maroglio. E allora perché avviare un presidio Slow Food per difenderlo? Perché oggetto del presidio è un ecotipo particolare, quello autoctono della città. Lo chiamano nostrale per distinguerlo dalle varietà che negli ultimi decenni hanno preso il sopravvento nei campi della zona come il Violetto di Provenza e il carciofo romanesco. Il nostrale è un carciofo che non ha avuto la fortuna commerciale degli altri, semplicemente perché è delicato, prosegue Vacirca. Quando viene raccolto deve essere consumato entro due o tre giorni, altrimenti il suo aspetto tende a guastarsi. Di sapore rimane buonissimo, assicura la fiduciaria della condotta Slow Food, ma diventa meno vigoroso e turgido, pagando quindi lo scotto di una concorrenza che spesso passa anche dall'apparenza. È come un fiore che una volta raccolto appassisce nel giro di qualche giorno, insomma patisce questo problema estetico di conservazione, ma che non influisce sulle qualità organolettiche. Così, complice all'avanzata di varietà più resistenti, il nostrale è andato quasi perduto.